La cronaca furto nella notte all'istituto Matteo Civitale in via San Nicolà o ignoti si sono introdotti nella scuola dopo aver forzato una porta che dà sul cortile portando via un pc da un ufficio al primo piano, al piano terra scusate, poi sono saliti al primo piano asportando le monete contenute nella macchina del caffè, un pc portatile e un proiettore. Dopo l'intervento di una volante gli agenti hanno fatto arrivare sul posto i colleghi della polizia scientifica per la ricerca di eventuali tracce ed impronte per risalire ai responsabili.